E' stata inaugurata il 10 settembre all'URP del Consiglio regionale la mostra pittorica 1862-2012, una guglia nel cielo. Curata dall'associazione Andrea Zerbino, espone 36 opere dedicate ai 150 anni della Mola Antonelliana, un tributo al monumento più importante di Torino. Rimane aperta fino al 10 ottobre, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 in via Arsenale 14G.